Benvenuti tutti all'istituto italiano, italo-americano che si chiama John D. Calandra Italian American Institute. Questo è un istituto di ricerca dedicato alla storia e alla cultura degli americani di origine italiana. È un istituto che esiste da 1979, nato con tre scopi principali. Uno per aiutare gli studenti, cioè i ragazzi di famiglie di classe operai, cioè senza esperienze universitarie, per fare quella transizione dal mondo operaio al mondo universitario. Numero due c'era la componente di ricerche, cioè un'equipe di 3, 4, 5 studiosi che interrogavano la storia, non solo la storia, ma anche le situazioni attuali degli americani di origine italiana. Poi invece la terza componente era quello che noi diciamo in inglese, outreach, che sarebbe forse anche promozione e fare delle connessioni con i diversi gruppi di questi americani, questi italo-americani come si dice in italiano, per cercare di creare una specie di comunità fra di loro e non soltanto queste piccole fazioni. Quanto è importante il nostro lavoro oggi? Quanto è importante dialogare con l'Italia? Perché? Io sostengo sempre che se l'Italia avesse studiato la sua emigrazione, cioè una storia di più di 120 anni, forse oggi ci sarebbero meno problemi in Italia per quanto riguarda la sua emigrazione. Qui ci sono almeno 40 o 50 anni di scritti, racconti, romanzi, poesie, saggi, che in Italia non sono per niente conosciuti. L'Italia sfortunatamente non riconosce la scrittura italiana fuori d'Italia e questo è secondo me uno dei motivi più importanti per cui dobbiamo cercare di creare ancora di più questo dialogo con l'Italia.